Musica Consueto appuntamento dal 27 al 29 marzo con uno degli eventi più attesi del panorama ASI Valli e Nebbie spegne la 31esima candelina Musica Quest'anno 31esima edizione di Valli e Nebbie la formula è sempre quella ospitalità, territorio, cultura Un evento collaudato ci dicevi poco anzi che tantissimi sono gli equipaggi affezionati che tornano ogni anno con un evento consolidato che non delude mai No, noi abbiamo un grado di fedelizzazione importantissimo per cui chi viene da noi normalmente torna almeno altre 4, 5, 6, 10, 20 volte abbiamo tanti amici che vengono da anni a Valli e Nebbie e chi viene da noi poi torna perché comunque non è una manifestazione ma un ritrovo di amici naturalmente c'è sempre un certo ricambio per cui invito gli amici a provare a iscriversi e a iscriversi a Valli e Nebbie naturalmente più di 90 equipaggi non possiamo prendere perché comunque non si garantisce una dignitosa accoglienza per cui noi ci teniamo particolarmente ad ospitare e sono ospiti chi viene a Ferrara Grazie a tutti 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 Grazie a tutti